Siamo con Meuccio Di Sento, direttore sportivo del Real San Salvo, una stagione da incorniciare, qui una bella festa al campo comunale degli Singi, Real San Salvo in promozione. Sì è vero, io veramente devo incorniciare tre anni bellissimi perché dalla terza categoria tre anni di vittorie, abbiamo vinto tre campionati con due coppe discipline, quindi in tre anni abbiamo raggiunto tanti obiettivi, ringrazio tutta la società, ringrazio il Presidente Onorario l'Avvocato Cerella, ringrazio il Signor Tumini, il Presidente, tutti i collaboratori, Petragnani, tutti, il Dottore Tutti, perché mi hanno dato la possibilità di allestire una squadra di primordine, la società si era prefissata di arrivare in promozione e noi con tutto lo spirito gli abbiamo dato questa gioia alla società, veramente io li ringrazio perché mi hanno dato fiducia e veramente affetto e non è da tutti i giorni fare in ogni campionato una vittoria finale del campionato. Clima di festa, quali ambizioni questa squadra coltiva per l'anno prossimo? Io parlo per quest'anno, clima di festa, è giusto, noi abbiamo vinto il campionato domenica scorsa con una settimana di anticipo, ci tengo a dire che abbiamo il cannoniere di tutti i gironi che è Vasio Admir, veramente con il gol di oggi è approdato a 28 gol, lo ringrazio di cuore, come ringrazio Pino Falcucci che ha sposato questo progetto dalla terza categoria, quindi l'anno prossimo dipende dalla società, io sono un dipendente della società. Grazie a tutti.